Noi continuiamo con la nostra Kermes Canora, ospitando su questo palco un altro ospite dotato di una voce davvero portentosa. Si tratta di Elena Cozzina. L'applauso! E' bellissima, elegantissima la nostra Elena Cozzina, artista che si esibisce su questo palco questa sera per noi, solista all'opera del Teatro Nazionale di Donetsk in Ucraina e interprete di molte opere liriche tra cui la bohème Rigoletto, la serva padrona. Il suo vasto repertorio comprende concerti con famosi canzoni dal mondo e di musica sacra anche per il Santo Natale e la Santa Pasqua con arie e romanze. Questa sera ci dedicherà due brani, Caruso di Lucio Dalla e La Spagnola di Vincenzo di Chiara. Ancora l'applauso per la splendida Elena Cozzina. Ancora l'applauso per la splendida Elena Cozzina Ancora l'applauso per la splendida Elena Cozzina. 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 Grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti